La collega che era in compresenza con lui non ha mai assistito o saputo di comportamenti maneschi e gli altri rappresentanti di classe della scuola hanno udito solo chiacchiere e pettegolezzi, ma nulla di ufficiale. Dopo che la procura ha esaurito i suoi testi, tocca alla difesa raccontare la sua versione dei fatti che hanno portato a processo per maltrattamenti aggravati un maestro elementare della provincia. 61 anni, è imputato per alcuni episodi riferiti a 5 anni. Se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online, è live 24 ore su 24.